Favorire l'incontro tra le famiglie bisognose di assistenza e le badanti in cerca di lavoro, con un'attenzione particolare allo sviluppo di un mercato del lavoro regolare. Questo è l'obiettivo degli sportelli assistenti familiari della provincia di Pordenone. Un servizio per molte famiglie è divenuto indispensabile e la cui efficacia è testimoniata da numeri in continua crescita. Presidente, dal 2010 ad oggi sono circa 3.500 le assistenti familiari inserite nelle famiglie della destra a tagliamento attraverso gli sportelli provinciali. Un servizio che piace, visti i risultati. Un servizio che piace, un servizio di cui c'è bisogno purtroppo perché nonostante questa crisi devastante i bisogni assistenziali nei confronti delle persone non autosufficienti o degli anziani o piuttosto di un assistente familiare sono crescenti. Soprattutto non ci si rivolge più, come nel passato, ad un collocamento informale, ma si vuole portare dentro casa una persona sicura, professionale, che abbia tutti i criteri richiesti. Noi offriamo questo tipo di servizi e lo facciamo con grande professionalità. Soprattutto garantiamo che la persona che entra in casa sia una persona seria, che abbia le personalità richieste e escludiamo la possibilità di lavoro nero che mette a rischio sia il lavoratore quanto il datore di lavoro con molte salatissime, problemi enormi, soprattutto se pensiamo magari agli extracomunitari. Temo però che sia questo tipo di servizio, sia i servizi assistenziali in generale avranno dei contraccolpi durissimi se continuo questa crisi occupazionale, perché chi si potrà permettere la badante, l'assistente familiare, se non ci sono stipendi in casa, è difficile già poter mettere insieme il pranzo con la cena, figuriamoci avere anche magari l'usso di una persona in più. Gli sportelli e assistenti familiari gestiti dalla provincia di Pordenone si trovano a Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago. Informazioni al numero 0434 231 466.